Iqbal! 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 Dunque, fammi capire. Tuo fratello è malato e tu non hai i soldi per le medicine. Sì, signore. Da dove viene? Io faccio tappeti al mio paese. Me la compra lei, signore. Conosco uno. È tanto tempo che lavorate qui. Sì. Ma è bellissimo! Questa è la Fenice. È l'uccello più bello del mondo. Non può morire, sai. Perché ogni volta che muore, rinasce. Vieni giù! Fatima, possiamo scappare! Scapperesti abbandonandoli qui! Dov'è Iqbal? Non c'è, è scappato. Non torna più. Non è vero. Iqbal torna. Ma... Non avete il diritto di obbligarci a lavorare! Quegli uomini sono tutti dei banditi! Dei fuori legge! Dovete darci le chiavi del mondo. Dovete ridarci il futuro! Ma... da ora! Grazie a tutti.